sempre. Intelligenza artificiale. Molti hanno paura. A9000. Non so se sapete da dove deriva al. Sono le lettere che precedono IBM. Il futuro della medicina sarà basato sull'intelligenza artificiale. Ci piaccia o no? Perché? Perché la biologia è troppo complessa per la nostra media. È un grande casino. Cioè basta aprire qualcosa, un varco, si aprono mondi infinitamente piccoli. Eppure, nonostante tutti gli indicatori vadano su, in medicina 3% dell'impiego dell'intelligenza artificiale nel mondo. Ma scherziamo. 3%. Molti medici temono il confronto con l'intelligenza artificiale perché pensano di perdere il lavoro. Ma come dice un grande futurologo, i medici non saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma quelli che la usano prenderanno il posto di quelli che non la usano. E quindi, gli ospedali del futuro, arriverà il bambino, tutti i biofluidi, centinaia di migliaia di dati, si preme Enter, vengono fuori tre malattie, il medico va a visitare il bambino e dice, o il paziente, è la numero due. Cosa fa il machine learning? Fa un lavoro molto noioso. E lo fa in un nanosecondo. Noi ci impiegheremo mesi anni. Soprattutto prende delle decisioni più consistenti. Pensate che in ambito economico ci sono degli agent nei consigli di amministrazione e il loro voto vale come quello degli altri consiglieri perché è molto più consistente, molto più razionale, molto meno emozionale. E questa è una prospettiva anche in medicina. L'intelligenza artificiale è stata sdoganata sdoganata in medicina da poco, quando queste grandi riviste, che sono state citate anche ieri, l'elenco delle riviste importanti, le hanno sdoganate. Vi consiglio questo libro, Artificial Intelligence 2041. C'è anche una parte narrativa. Sono il CEO di Google China e il più grande scrittore fantasy cinese. Perché 2041? Perché si prevede che in 2041 l'intelligenza artificiale superi quell'umana con problemi che ovviamente bisognerà governare. E quello che sappiamo oggi è solo una punta dell'iceberg di quello che c'è dietro. Ma per farmi capire perché è importante l'intelligenza artificiale, perché abbiamo decine di migliaia di cose di questo genere, non si capisce niente. Però l'agent mi può dire, può scoprire delle cose che nessuno vedeva. Il mio nome, il significato del mio nome, altre cose, immaginazione. Einstein diceva, imagination is better than science. Questo lavoro, noi stiamo applicando l'intelligenza artificiale. Io ho due PhD europei, una ragazza di Cracovia, che ha due lauree, che si occupa di intelligenza artificiale. Questo è uscito lunedì. Tutti i ricercatori che hanno fatto metabolomica e microbiomica a proposito di autismo hanno dato i dati originali. All'associazione dei genitori bambini autistici di New York hanno preso i due migliori al mondo, questi due. Il primo e l'ultimo nome. È una cosa di una complessità straordinaria, però credo che sia il modo di fare le cose.